Stiamo scappando dal nostro paese, non si riesce a trovare la strada. A voi, vi piace qui? Vi piace la vita che fate? A noi no, perché ci siamo stancati. Vogliamo andare da un'altra parte, vogliamo fondare una città nuova, un posto dove cominciare tutto da capo. Migranti residenti nel territorio aretino ed italiani di seconda generazione. Sono stati loro i protagonisti dello spettacolo ispirato alla commedia I uccelli di Aristofane a conclusione del laboratorio tenuto da capo Travel Kilowatt, un progetto selezionato e finanziato dal Ministero della Cultura nell'ambito del bando Migrati. Un percorso iniziato un mesi fa e che ha visto la sua conclusione in Piazza Grande ad Arezzo. Noi non siamo umani. E chi siete? Vestie? Sì, più o meno vestie. Che vestie? Vieni un po' bene d'Africa. E l'uno ha sparato alla d'Africa. Siete uccelli? Se non siete uccelli andate. Uccelli, uccelli, di tutto va. Siamo uccelli come voi. Il laboratorio teatrale ha portato alla creazione dello spettacolo ispirato agli uccelli di Aristofane, testo che racconta di due cittadini ateniesi che, disgustati dal malcostume imperante nella propria città, decidono di fondare una nuova assieme alla comunità degli uccelli, dandosi così nuove regole per vivere in pace. Dove si mangi sempre, che dove ti giri, se c'è uno che ti dica, vieni a mangiare da me. Oggi che sono un fendo, un posto dove cominciare tutto da capo, bello no? Un posto dove non ci siano le giustizie, le guerre, la povertà. Dove non c'è la cattiveria, non si guarda la differenza del colore e della pelle. Lo spettacolo tornerà in scena giovedì 13 luglio in piazza Torre di Berta Sansepolcro alle 22.